Attenzione, se Lautaro sbaglia, l'Inter è fuori dalla Champions, si credibile! Dai Lauti che ci siamo allenati tanto, con i rigori in campionato che ne abbiamo tirati tanti e vabbè, tu li hai sbagliati tutti però... Melda, Lautaro non li sa calciare! Fai qualcosa Beppe! E se eravamo nella Marotta League potevo farli tirare tutti e cinque a Ceranoglu, però qui siamo in Champions. Attenzione, parte Lautaro, che è missile! Sopra la traversa! Ma attenzione, sopra anche allo stadio? Come vola! Eccezionale! E la colpa è mia che ho detto che dovevamo puntare alla seconda stella e lui mi ha preso la lettera e ha mirato proprio alle stelle! Ehm? What is this? Houston, abbiamo un problema! C'è un piccolo meteorite che sta attraversando la Terra! Oh my god, a ball! Football is everywhere! C'è vita anche sulla luna! Sono fuori! Noi siamo in Europa e voi no! Mandate un messaggio a Cialanoglu! E per voi invece c'è un messaggio dal nostro maresciallo! C'è un po' di materiale qui, amici del Milan! Ah, che stagione straordinaria! C'è da festeggiare! Yuppie! Ma cosa festeggiamo mister? Che non abbiamo vinto niente! Ma come? Ci siamo appena qualificati al mondiale per club! Dal divano, senza farna a sega! Meglio del corto muso! Muso nullo! Mi piace, mi piace questa! Poi c'è la guardia di finanza a Milan che gli tolgono un po' dei punti come a noi l'anno scorso e noi si arriva a secondi! E l'Inter è uscita dalla Champions, che è sempre un piacere! Obiettivi stagionali pienamente raggiunti! Alla faccia degli Allegri Out! Giuntoli! Mi devi fare il rinnovo del contratto! Non me ne andrò mai! Ah 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 ah!